E comunque di aver giocato alla pari contro una squadra che aveva tanta qualità in campo, una squadra che a mio avviso abbiamo contenuto molto bene facendogli sicuramente trovare difficoltà nel creare azioni offensive e avendo noi, a mio avviso, le situazioni più grosse per comunque per riuscire a fare bottino pieno. Poi sappiamo benissimo che la classifica è una classifica sempre molto corta dove dovremo stare sempre molto attenti perché il vantaggio è rimasto intatto però le squadre dietro comunque corrono e quindi come sapevamo già prima ma non c'è bisogno di ribadirlo, dobbiamo comunque arrivare a quei famosi punti che saranno tra 48, 49 e 50. Per assurdo, se le altre dietro vincono si potrà alzare di nuovo la quota salvezza, quindi noi siamo nella consapevolezza di dover lottare ancora fino alla fine per centrare un obiettivo che la squadra sta, a mio avviso, in questo momento meritando di centrare facendo una striscia notevolissima che io oggi dico sempre, visto il trascorso anche delle altre squadre, pensate se non avessimo fatto questo score, a mio avviso, non da squadra che deve salvarsi. Il record ci fa piacere, così come ci ha fatto piacere quest'anno sfatare diverse situazioni che non avvenivano da tanto a Vercelli, perché se penso anche solamente al derby o ad altri numeri che ci hanno comunque portato a sfatare questi tabù, però io credo che alla fine questi rimangono numeri che rimarranno nel Manaco ma noi dobbiamo assolutamente rimanere concentrati non sul record di imbattibilità ma sul continuare a fare punti e a muovere la classifica perché la salvezza va raggiunta sul campo. Io credo che la squadra abbia fatto in fase difensiva un'ottima partita, così come ormai la fa da tanto tempo, sapevamo che sicuramente la Salernitana avrebbe cambiato qualcosa, magari non proprio negli interpreti precisi, però avendo una partita importante anche loro martedì in casa con il Bari sapevamo che a qualcuno poteva venire dato qualche turno di riposo. Io credo che quando in questo caso una squadra lavora bene e subisce un gol in sette partite come la Provercelli, credo che il merito sia stato sì di Legati che ha giocato bene contro Donnarumma ma di una disponibilità da parte dell'intera squadra che comunque si prodica nelle due fasi con la stessa attenzione. Ma sicuramente Coda è un giocatore che a mio avviso in questa categoria sposta gli equilibri perché è un giocatore che è completo, un giocatore che attacca la profondità, un giocatore che sa tenere palla, sa lavorare con le spalle alla porta, è un giocatore che a mio avviso ha tenuto sempre in apprensione la nostra retroguardia e ogni palla scoperta diventava comunque col suo modo anche di smarcarsi fuori linea sui nostri difensori. Avevamo anche visto in settimana che ci poteva creare dei problemi e quindi sicuramente è un giocatore che oggi ci ha creato delle difficoltà. Ma sicuramente ci accomuna il percorso, perché siamo due allenatori che prima di cominciare hanno fatto diversi anni nel settore giovanile, abbiamo fatto diverse sfide anche da avversari, quindi la mia conoscenza con la sua ci ha fatto scambiare due parole, ma ci siamo fatti i complimenti in maniera reciproca perché dopo qualche anno ritrovarsi in un palcoscenico importante come la Serie B, dopo aver masticato parecchio duro su dei campetti di periferia comunque fa sempre piacere, quindi ci siamo fatti un in bocca al lupo a vicenda.